La situazione e le prospettive degli agriturismo in provincia di Pistoia, anche alla luce delle novità normative introdotte recentemente dalla Regione nel contesto della legge del 2009 che regolamenta il settore, sono state al centro di un'iniziativa della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. L'iniziativa di confronto è realizzata con Turismo Verde, associazione senza fini di lucro promossa dalla CIA per incentivare lo sviluppo del compatto, che conta su un centinaio di imprese aderenti. Abbiamo ancora delle tematiche aperte sul tavolo regionale, che in qualche modo stanno preoccupando anche i nostri agricoltori, le nostre aziende agrituristiche. Una delle più importanti è quella che riguarda la possibilità, cioè l'obbligo di utilizzare solo prodotti di origine toscana per la somministrazione pasti e per le degustazioni in agriturismo, che però può presentare qualche limite. Allora stiamo cercando di capire, insieme alla Regione Toscana, quali sono i prodotti che possono essere veramente utilizzati in Toscana per qualificare sempre di più i nostri agriturismi. C'è un problema anche di concorrenza, tante volte, non sempre del tutto leale. Tante volte nei portali anche dedicati agli agriturismi stessi vengono inserite strutture, che di fatto sono sì delle strutture presenti nell'ambiente rurale, ma che niente hanno a che vedere con l'agriturismo e tante volte le ritroviamo sotto questo nome. Questo chiaramente crea un po' di preoccupazioni da parte dei produttori, perché l'agriturismo per definizione deve avere un'attività agricola alle spalle, che chiaramente essendo fatta per lo più in zone montane, in zone svantaggiate, collinari, ci sono anche dei costi importanti, degli oneri che sono sempre crescenti e quindi su questo le nostre aziende sono molto molto sensibili e ci richiedono anche di fare un'azione importante a partire appunto dai comuni perché appunto in questi elenchi siano presenti aziende che hanno appunto la parte agricola alle spalle quando usano la dicitura agriturismo.